I discepoli di Gesù lo accompagnano ma non lo seguono, cioè anche se sono vicini fisicamente, sono distanti perché loro proseguono l'idea di un Messia vincitore e trionfatore. Nel capitolo 9 del Vangelo di Luca dal versetto 51 c'è un brano importante che purtroppo le traduzioni inesatte come minimo o inadatte non rendono. Infatti se leggiamo questo Vangelo si legge che mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto e gli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. E poi lo vedremo, in un villaggio di samaritani non lo accolgono. Ma perché? Allora cerchiamo di tradurre letteralmente il testo e vedremo che questa incongruenza in realtà non lo è. Allora mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, quindi Gesù viene presentato dall'Evangelista già nel cammino finale verso la città assassina dei profeti, quella che lo amazzerà, e qui l'Evangelista non dice egli prese la ferma decisione, letteralmente indurì il suo volto verso Gerusalemme. Questa è un'espressione che appare anche nell'Antico Testamento che significa andare contro qualcuno. Per esempio nel libro del profeta Geremia al capitolo 21, versetto 10, si legge «Volgo la mia faccia contro questa città per farle del male». È il Signore che parla. Oppure nel libro di Ezechiele al capitolo 21, versetto 7, il Signore dice «Figlio dell'uomo, volgi la faccia verso Gerusalemme e parla contro i suoi santuari». Allora questa espressione che l'Evangelista adopera «Indurì il suo volto, indurì la sua faccia verso Gerusalemme» significa che Gesù va contro Gerusalemme, va per contestare questa città che pretendeva rappresentare Dio, in realtà era assassina di tutti gli inviati e i profeti da Dio. Ma i discepoli non lo capiscono. Gesù manda dei messaggeri davanti a sé, questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani, sappiamo la rivalità, l'inimicizia che c'era tra samaritani e giudei si detestavano, era una inimicizia secolare, per preparargli, qui la traduzione dice, per preparargli l'ingresso per lui. L'Evangelista scrive «Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme». Ma non dicono come era Gesù verso Gerusalemme, dicono che Gesù va a Gerusalemme, ma i samaritani pensano che essendo ritenuto questo Gesù, il Messia, va a Gerusalemme per prendere il potere e per poi sottomettere i popoli pagani e sottomettere anche i samaritani. Ecco perché non lo vogliono ricevere. Sono stati i discepoli che non hanno capito l'intenzione di Gesù e che non lo comprendono, si vede dalla reazione di due discepoli, più fanatici, Giacomo e Giovanni, che Marco nel suo Vangelo chiama i figli del tuono per il loro carattere autoritario, e chiedono «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Il riferimento al profeta Elia, che in un episodio localizzato proprio nella Samaria, brucia 50 alla volta degli emissari, dei soldati che erano andati da lui. Quindi credono che Gesù sia una sorta di Elia, un uomo che con la violenza faccia rispettare la legge di Dio, la volontà di Dio. Ma Gesù si voltò e li rimproverò esattamente come fa con i demoni. e si misero in cammino verso un altro villaggio, sempre in Samaria. Quindi l'incomprensione e l'ostilità dei samaritani è dovuta all'incomprensione da parte dei discepoli. E sempre in Samaria ci sono tre individui che chiedono, uno di questi è invitato direttamente da Gesù, da seguirlo. Il numero tre non vuole essere numerico, indica la totalità, la completezza. Allora sono regole per la sequela di Gesù valide per tutti. Un tale gli disse ti servirò dovunque tu vada e Gesù gli mette delle condizioni, gli fa capire. Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi. Volpi e uccelli sono gli animali più insignificanti e inutili che esistono. Ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi Gesù dice attento mi vuoi seguire ma non pensare a onori, a carriere, a successo. Ma peggio degli animali più inutili, insignificanti, io non ho neanche una casa. Non ho nulla dove posare il capo. In mezzo l'Evangelista presenta quello che invece Gesù invita a seguirlo. A un altro gli disse seguimi. E questo gli rispose permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Può sembrare disumana questa risposta di Gesù. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annunzia il regno di Dio. Non è una risposta disumana quella di Gesù. Il padre rappresenta il passato. Allora seppellire il padre significa ritenere ancora in grande onore, in grande rispetto il passato. Gesù no, Gesù chiede una rottura radicale con il passato. Il vino nuovo non può essere messo dentro gli ottrivecchi. Quindi lascia che la gente che vive nel passato, ecco, i morti, seppelliscono i loro morti. Tu vieni e segue e annuncia la novità. E infine il terzo ti seguirò. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Nella Bibbia c'era l'episodio conosciuto di Elia che consentì a Eliseo di andare a congedarsi dai propri familiari. Gesù invece no. L'urgenza del regno di Dio non permette neanche in questo. Non permette nostalgie per il passato ma bisogna distaccarsene radicalmente. E Gesù gli rispose, nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Questa frase di Gesù non significa avere un rapporto distaccato di sua mano con la propria famiglia. Nulla di tutto questo. Ma che l'urgenza di annunzare la buona notizia. Il regno di Dio è talmente importante che non si può avere nessuna nostalgia per quello che appare soltanto come il passato.